Si è modificato il rapporto con i mercanti, i galleristi e anche i curatori stessi. Io vivo una scelta mia che è al di fuori di quello che può essere definito il mercato dell'arte. Ci sono stato e l'ho vissuto negli anni 80, ma poi ho preso una strada completamente diversa proprio per essere anche più libero nelle mie scelte. Direi che vedo la situazione, se può essere anche questo il motivo della domanda, una situazione un po' troppo commerciale da certi punti di vista, cioè una cosa che è costruita a tavolino in generale, sia per quanto riguarda i curatori che per quanto riguarda il mercato stesso. Insomma, senza per carità criticarlo.